Si ricomincia con il Vecoliscio, il mese di settembre partiamo con il botto con il gol di mano di Limbardi Ci è chi ha falasche, ma vediamo anche la reazione di un tifoso a questo calabroso abbaglio Eccolo che protesta Ma non è finita, passiamo a caccia 5 femminile con l'atletico di Rena Guardate cosa succede, Romano Moneroni vestito di rosso va nell'ufficio E' la rosa che si inventa questo gol e lui non lo vede questo gol Guardate c'è il gol ed esce subito per esultare La rosa non se ne accorge ma vediamo anche il replay Eccola la maglia rossa che appare E ora passiamo al basket con la palla 2 tra Stamart 90 e Stella Azzurra Viterbo Guardate non la prende nessuno Spada Tirabassi Barucca Il cinismo della coccinella Aiello E Di Lorenzo Gagliardi La rosa Passiamo i portieri con Pancotto E Nardi La bomba di Bellucci Givkovic sbaglia sport e passa al calcio Il super acquisto Rihanna Nengolan Il super acquisto della Ciechia Toscano sul rigore Il super acquisto di per i sulle Il super acquisto di Bale Il super acquisto di Bale E il super acquisto di Bale